Let's go! Bentornati ovetti su Yoshi's Woolly World! Nello scorso episodio abbiamo sconfitto il boss del mondo 1. Abbiamo anche sbloccato il mondo 2, ma perché andare in un livello facile quando posso andare in un livello difficile? Andiamo nel mondo 1S, il livello speciale del mondo 1. Io adoro questi livelli perché sono anche più difficili degli ultimi livelli del gioco. Abbiamo anche Cocomeri a Volontà, che non è affatto male come spilla per questo livello, ma fidatevi di me. Usate questo qui, ok? Costa un po', ma ne varrà la pena. Via! In questo livello dovete stare attenti a tutto! Si cade qui! Si cade anche molto in fretta! Dovete continuare a fluttuare praticamente all'infinito. Se giocate nella modalità relax, questo livello è davvero, davvero semplice! E spero che vi piaccia il rumore di Yoshi che fa... ...perché lo sentirete per un sacco di tempo e per un sacco di volte. Ho già mancato un po' di cuoricini, ma lasciamo stare. Ora, ridammi non la pianta piranha, vero? Devo colpirla. Vieni Shy Guy, vieni Shy Guy. Fluttuiamo ancora un po' e andiamo avanti così. Ok, perfetto. Dammi qualcosa di interessante. Un gomitolo. Qua abbiamo inoltre altri cuoricini. Spero che ce ne siano altri. Dovrebbero essercene altri nel livello. Altrimenti non saprei come andare avanti a prendere la medaglietta. Anzi, il coso! Oh! Oh, c'è qualcosa lì? Bene, un attimo solo allora. Oh, mamma mia! Quanti ce ne sono di... Shy! Oh, grazie. Shy Guy? Cosa c'è qui? C'è un fiore? Allora lo devo per forza prendere. Adoro questo livello io. Dai! Ok, vieni, vieni. E adesso andiamo. Piano, piano. Oh, c'è qualcosa anche qui. Bene. Gomitolo di lana. Perfetto. Finché premo il pulsante A al momento giusto. Non cadrò. Non morirò. Non dovrò ricominciare il livello da capo. Occhio a questi tipi lancia però perché vi possono trollare. Io ve lo... Io ve lo dico. Vieni qua. Non c'è niente qua sopra, giusto? Ok. Voglio stare attento. Telecamera, grazie. Telecamera, collabora. Telecamera, collabora. Telecamera, grazie mille. Lancio. Stiamo attenti anche qui. Un'altra cosa. Attenzione. Lo sapevo che mi voleva trollare. Ok. Se avete uno Shy Guy nella vostra bocca, non dovrete preoccuparvi del... Della lancia. Sorge mia creatura. Ok. Oh, quanto sei vicino a me, pianta piragna. State inoltre molto attenti proprio alle piante piragna. Perché se vi mangiano, vi possono tirare giù. Ah, è una delle poche cose che mi sono annodato per questi... Ah, capito? Annodato. Al posto di annotato. Ok. L'ho detto. L'ho detto. Forse da qui riesco a fare qualcosa di più pratico. Ok. Oh, dai! Ah, mamma mia. Dovrò davvero rifare questo livello, allora. Eh, piano. Oh, mamma mia. L'ho preso. L'ho preso. Ok, ok. Adesso piano. C'è un'altra pianta piragna. Qui. Oh, no! 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 Sputami! Ok. Abbiamo pochi cuori. Ok. Attenzione qua. Devo stare molto attento. Abbiamo qualcosa da sotto. La cosa non mi piace per niente, perché vuol dire che devo mangiare un tipo timido. Ok, bene. Inbiottirlo. Idealmente colpire la pianta piragna, perché altrimenti non posso andare avanti. Se riesco a farcela alla prima, mamma mia, quanto sarò felice. Mi conviene fare una piccola cosa qua, vero? Sì. Vieni. Bene. Venite tutti da me. Shyguy. E ovviamente per questo tipo di livello non abbiamo... Fermi. Sono abbastanza sicuro che qui ci sia qualcosa. Non abbiamo checkpoint. Uh, bene. No, non c'era niente. Ok. Wow! Ma qua sopra sicuramente abbiamo qualcosa. Vorrei ricordarvi che... Ok. No, non c'è niente? Serio? Ok. Vorrei ricordarvi che Yoshi non è in grado... Ok. Di lanciare i gomitoli di lana per andare a prendere i gomitoli che creano altri Yoshi. Quindi state attenti. Piano. Ok. Oh, mamma mia. E quanti sono? Sono troppi? Oh, come ho fatto a risalire? Non lo so, ma non mi lamento. Anzi, anzi. Attenzione qui. Oh! Bene. Sputa. Lancia. In alto. E... Tubo. No! No, 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 no. Cioè, tubo sì, ma... Attenzione. E... Fatto. Dai, come... Ci arrivo nel tubo. Ok. Mamma mia. Adoro questo tipo di livello. Fortunatamente qui è possibile prendere un bel po' di... Di gomitoli. Un piccolo punto di relax, insomma. Oh! Wow. Wow! Ok, ricominciamo da capo. Questo vuol dire perdere in questo gioco. Non avete vite, fortunatamente. Però dovete stare comunque molto attenti a dove andate. Dobbiamo ricominciare il livello da capo. Ci vediamo... Facciamo una cosa, va? Stavolta prendiamo tutti quanti i cuoricini. Però ci vediamo direttamente nel punto dove abbiamo... Lasciato... Quello... Scrigno regalo. In post vorrei aggiungere una cosa. E nel frattempo avrò probabilmente velocizzato tutto quanto. Prima vi ho consigliato la spilla del cocomero infinito. Vi spiego giusto un secondo che fa. Ogni volta che Yoshi non ha un cocomero in bocca, Spawnerà un cocomero vicino a Yoshi. Ed è incredibilmente comodo perché... In questo modo potete anche non prendere neanche un gomitolo da questi Shy Guy. Inoltre non sentirete Yoshi che fa... Ogni tre secondi. Un'altra cosa dovrebbe essere abbastanza ovvio, Ma la spilla che ho preso ci salva solamente se cadiamo noi. Se le piante piragna vi mangiano e l'onda sparisce, Vi ho detto anche prima che le piante vi tireranno giù. In quel caso la spilla non dovrebbe salvarvi. Adesso... Basta così e lascio la parola al me del passato che... Fortunatamente ci ha messo solo due try per finire questo coso. Ok, quasi. Quasi. Ok, mamma mia. Ho rifatto tutto il livello. Fortunatamente tutto quanto in una run. Senza sprecare troppo tempo. Questa è una trappola. E qua sopra abbiamo qualche altra cosa. Bene, ok. Ah, questi livelli sono ovviamente difficili. Sono fatti apposta per essere così. Immaginate farli... Com'è che si chiama? Senza essere abituati a livelli difficili. Perché è così che vuole farvi giocare il gioco. Mi raccomando. Attenzione a questi tipi timidi qua sotto. Bene. Devo stare attento. Devo solamente scendere qui. Senza fallire. Mi sa che ho mancato qualcosa però. Vero? Abbiamo preso tutto? Nel livello super difficile? Oh, mamma mia la gioia. Bene, arrivo. Yahoo! È stato un miracolo. Ve lo dico. È stato un puro miracolo. Bene, non ci ho messo così tanto. Vedremo poi negli altri livelli speciali. E sì, vanno completati tutti quanti i livelli. Per andare avanti nel gioco. E per ottenere il 100%. Quindi, passiamo al gioco bonus. E vediamo anche quale Yoshi abbiamo sbloccato. 12 secondi! Bene. Vediamo se riesco a prendere tutto quanto. Sarebbe una cosa fantastica. Per recuperare un po' le perline che abbiamo speso. La cosa più divertente è che non abbiamo neanche utilizzato la spilla che ho pagato così tante monetine. Beh, meglio per noi in realtà. Vuol dire che non ne avevo bisogno. Comunque, fine gioco bonus. Quante perline abbiamo? Abbiamo recuperato più della metà di quelle che abbiamo speso. Quindi, ci sta. Ci sta. Se però volete un consiglio, mentre si genera lo Yoshi... con il Wii U. Ah! È lo Yoshi Wii U. Mi sembra logico. Se volete un consiglio, però, e se state miracolosamente giocando a questo gioco, o alla versione 3DS, mi raccomando, completate prima tutti i mondi e poi tornate indietro a fare i mondi speciali. Perché, fidatevi di me, conviene fare i mondi speciali. I livelli speciali, ok? Solamente dopo esservi allenati per un po'. Detto ciò, il mondo 2 è qui. Non c'è un modo per collegare il mondo 1 al mondo 2, vero? No, mi raccomando, bisogna tornare nella hub principale. Potrei usare lo Yoshi rosso? Ma già sapete che a me il rosso non piace. Quindi andiamo nel mondo 2! Mondo 2.1 Deserto ondeggiante. Per questo livello è un po' inutile usare spille. Yoshi! C'è qualcosa qua sopra. Ovviamente c'è qualcosa qua sopra. C'è sempre qualcosa qua sopra. Avrete inoltre notato che questo è il secondo mondo di gioco. Ovviamente è il mondo 2. Ed è un deserto. È un po' una tradizione nei giochi di Mario avere un deserto come mondo 2. Era così in... Meno male tutti quanti i giochi della saga New Super Mario Bros. Quindi ci può stare. Non ricordo se in Yoshi's New Island era così. In Crafted World forse era cambiata la cosa. Però pazienza. Non stiamo adesso parlando di giochi Mario. Stiamo parlando di colpire piante piragne in un deserto. Come faccio a una pianta a vivere in un deserto ma non è un cactus? Non lo so. In effetti abbiamo dei marghi bruchi in questo livello e in questo mondo. Almeno da quello che abbiamo visto nella preview di questo livello nell'iconcina sullo schermo del mondo. Shy Guy, attenzione, questi zompano. E ascoltate la musica! Ovviamente musica da deserto. Pianta piragna. Qua niente, ok. Ma questo altro tubo è di un colore diverso. Quindi ovviamente è qualcosa di importante. So già cosa devo fare qua. Vai. Fatti mangiare! Ok. Anche tu. Adesso lanciamo il gomitolo. Saltiamo qua sopra e prendiamo il primo. È il secondo? È il primo gomitolo. Bene. Questo vuol dire che fortunatamente non abbiamo mancato nulla. Forse qualche timbro ma pazienza. Ve l'ho già detto. Non è un problema mancare timbri. anche se mi sa che sappiamo benissimo che dovessi mancare un timbro tornerei comunque indietro nel livello per cercarlo perché mi dà fastidio non completare le cose al 100% quando posso completarle al 100% e quando non sono così difficili intendo e questo livello non è difficile quindi vieni qui Shy Guy. La lingua di Yoshi ogni tanto fa dei movimenti così strani. Ok. Ti ho mangiato. Qua sopra abbiamo una nuvoletta. Altri cuori. Ok. Non devo preoccuparmi dei cuori in questo livello fortunatamente non è come il livello precedente. Comunque farò tutti quanti i livelli esse appena sbloccati dopo la battaglia boss prima di andare nel mondo successivo. È una cosa abbastanza logica e ovvia però tanto per sicurezza sì li farò tutti quanti quando li sblocchiamo. Si va giù! Checkpoint! E sotto al deserto tutti quanti sanno che c'è l'acqua non in questo livello ma questo coso mi sa che è immortale vero? Credo che sia immortale nel senso che non si può mangiare vero? Sì sì ok era così anche in altri giochi di Yoshi quindi ci sta qualcosa qua sopra lo sapevo c'è la rientranza ok si vedeva benissimo che c'era la rientranza nella lana posso passare grazie mille non so se questa piattaforma bene vi può schiacciare o no nel caso non restate troppo tempo sì vi può schiacciare vi può assolutamente schiacciare quindi attenzione a dove mettete le vostre zampe e vorrei farvi notare una cosa Yoshi ha le scarpe anche The Great Gonzales Junior aveva le scarpe quindi Yoshi nasce con le scarpe? tecnicamente no fun fact Yoshi ha gli artigli o almeno alcuni Yoshi hanno gli artigli sto parlando di Boshi lo Yoshi blu con gli occhiali da sole che era un bulletto dell'isola Yoshi di Super Mario RPG portato neanche troppo tempo fa su questo canale perché è uscito il remake adorato come gioco adoro gli RPG però porto pochi RPG sul canale aspetta un attimo aspetta un attimo non è finita qui non è quella la porta corretta giusto dovrebbe essercene un'altra forse attivando questo monetine grazie in realtà sono perline e che vi ho detto però ci manca la lana bene quindi torniamo indietro a prenderla e stiamo attenti a questo coso perché rischiare quando posso svinguazzarlo ok resta laggiù adesso possiamo andare avanti hanno un nome questi nemici ogni singolo nemico di Yoshi ha un nome e che ci crediate o meno anche il palloncino che regge le cose è un nemico di Yoshi anche se non so il suo nome visto Hidden Flower forse faremo sì faremo altri tre livelli in questo episodio fortunatamente ci ho messo poco a fare il livello del ok speciale 1 quindi posso benissimo fare altri due livelli cioè un altro livello questo compreso è un po' strano davvero vuoi darmi una piattaforma vicino a una pianta piranha e non dirmi che non c'è qualcosa di nascosto qua bene clic ah è a tempo corri qualcosa qui no corri vai vai davvero nient'altro oh curioso davvero curioso mi sa che dovevo in realtà andare in fretta qua vero sì ok quindi si torna indietro per la nostra gioia un po' di backtracking non ha mai fatto male a nessuno giusto un po' dipende dal gioco mi raccomando però salta scendi Yoshi corri Yoshi ok no quello sarebbe stato un punto perfetto per nasconderci qualcosa a quanto pare no addio pianta piranha ah beh ecco a che serviva e questo è il quarto gomitolo di lana un altro checkpoint mi sa che questo è l'ultimo checkpoint credo che ce ne siano due nei livelli standard pianta piranha verde ah ok eccole qua queste qui sono credo teste di marghi bruco sono leggermente diverse dalle teste normali di marghi bruco non abbiamo neanche il corpo qui però alla fine se non si chiamano marghi bruchi sono pesantemente basati sui marghi bruchi inoltre non si possono mangiare quindi attenzione si possono leccare non ne ho idea per il momento evitiamo finché posso pianta piranha ok si possono colpire con i gomitori di lana e questo nasconde un segreto sono solo fuori ma non importa qua non c'era niente però però il tubo è blu quindi possiamo andare giù per il tubo un'altra volta ah eccoci e non abbiamo posso quindi leccarle no ok si posso leccarle ok quindi bene ha senso perché sono appuntite però non ci interessa così tanto voglio solamente andare avanti magari c'è qualcosa se la sconfiggo no ci avrei nascosto qualcosa qua sopra io ma non tutti sono me e concludiamo questo livello intanto vieni qua shy guy ne vorrei un altro perché avere più gomitoli non fa mai male a nessuno quindi vieni che l'avete visto? l'ho detto anche prima giusto? la lingua ogni tanto fa cose strane forse è meglio prima mangiare questo shy guy e magari anche il prossimo shy guy vieni qui adesso clic devo prendere ovviamente tutto in tempo perfetto per l'ultimo gomitolo bla ok piano devo solo prendere l'ultimo fiore che è sicuramente qui da qualche parte aguzziamo bene la vista potrebbe benissimo essere sopra questo blocco sputa qualcosa no vai ho preso tutto quanto intanto eh tutto quanto del no 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 mi sa che è quello vero oh no 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 fermi 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 abbiamo troppi troppe teste di marghi bruco quindi preferisco avere un po' di uova in più oh ok prima colpiamo la pianta oh prima colpiamo posso colpire la pianta piragna grazie sei tuo allora il fiore sì perfetto abbiamo tutto devo solamente non essere colpito erano cuori ok ho sprecato la mia possibilità di posso per caso sputa sputa esatto è un counter attack quindi abbiamo finito fortunatamente il livello 2 e magari gioco bonus deserto ondeggiante completato al 100% non so perché lo sto dicendo in questo modo fine livello ovviamente mondo 2 abbiamo giochi bonus diversi abbiamo sempre poco tempo e bisogna prendere tutto quanto è anche abbastanza in fretta non spawna qui la la nostra ultima la nostra ultima anguria ovviamente sì dammi la mela dammi il kiwi a me non piacciono i kiwi ok però mi piacciono le mele e anche le pere e anche altri tipi di frutta come la pesca mmm su sine 2650 perline per un totale di 32.690 perline hai ricomposto Yoshi Safari la zona Safari tornerà no non tornerà mai più sfortunatamente la zona Safari nei giochi Pokémon moderni un gran peccato a meno che non facciano un altro remake di prima gen o di terza lasciamo stare eh sarebbe tecnicamente ora di rivedere un remake di seconda eh andiamo nel livello 2-2 il la grotta fronte-retro qui non servono spille let's go sarebbe il via e non possiamo prendere queste perline perché ah la pure chiamata grotta fronte-retro si cambia la visuale e questi topi eh proveranno a rubare le vostre ehm non sono più uova sono gomitoli di lana quindi attenzione vedremo la cosa un po' più tardi allora ehm occhio anche a come cadiamo per queste cose dove è possibile cadere una volta fatto il salto flip barra il oh mamma mia mi sono completamente dimenticato già come l'ha chiamato il gioco l'altra volta il salto per ehm salto schianto insomma avete capito ok si cambia e si prende già il primo gomitolo cerchiamo di non mancare nulla perché questo è l'ultimo livello della giornata spero di non aver sbagliato a scegliere di fare video sempre di 25 barra mezz'ora ehm l'ho già detto più volte in passato ma ehm qua c'è sicuramente qualcosa appunto ehm comunque la mia norma per la lunghezza di un video è sui 25-30 minuti a meno che non sono video che ehm hanno più argomenti che magari voglio tirare via in una sola volta ad esempio non lo so il parcolotta di pokemon smeraldo ehm qua devo stare attento per caso si devo stare attento qua e lo sapevo la lana è diversa qua si vedeva davvero tanto ehm devo però andare anche in quell'altra zona e andare quindi qua per fare un bel cambio sul 3ds questo livello era incredibilmente frustrante vi ho già detto quando c'è un cambio di visuale in questo modo insomma il 3ds fa ehm un flash bianco insomma e fa quasi metà della tembro appunto ehm quasi metà dell'animazione di svolta appunto ehm e visto che bisogna cambiare molte volte è davvero davvero brutto perché ehm vi fa una flashbang in faccia ogni 3 secondi ed è fastidiosa la cosa vorrei mostrarvi in effetti che ci ha provato ehm che ci possono rubare i gomitoli visto ok adesso che ve l'ho mostrato posso anche non farmi rubare gli altri gomitoli cambiamo in altri livelli sono anche più fastidiosi ehm però non in questo ehm e ricordo che si possono mangiare per creare altri gomitoli quindi nel caso là si va avanti abbiamo una trasformazione di Yoshi tuttavia qui abbiamo un fiore nascosto ehm qua invece non abbiamo nient'altro devo solo rifare il giro andare a trasformarmi in qualcosa di misterioso e mistico e poi finire questo livello ehm lo ammetto questo è il primo video della giornata che registro ehm credo eh sì lo è lo è ehm sto provando a mettermi da parte un altro po' di ehm di video perché vorrei fare una pausa di qualche giorno però senza lasciarvi a secco con i video raramente mi prendo pause dai caricamenti eh perché a me non piace andare in vacanza transformation Yoshi talpa usa B per scavare nella direzione che preferisci 20 secondi via attenzione devo provare a prendere tutte queste bellissime gemmine abbiamo poco tempo là abbiamo dei secondi preziosi extra bene così siamo tornati a 20 ovviamente abbiamo il terreno un po' più problematico secondi preziosi ok cerchiamo di sprecare meno tempo possibile qua però abbiamo sicuramente almeno un timbro esatto quello non lo voglio questo si però ok vai giù ho preso tutto miracolo in effetti checkpoint ti attivi grazie mille ora dobbiamo solamente finire questo livello e poi avrò finito tutto quanto ovviamente questi blocchi qua vi possono schiacciare ed è morte istantanea quindi attenzione a dove mettete le vostre zampe qua abbiamo qualcosa sì abbiamo un'altra di queste vorrei devo andare sopra vero? sì però c'è qualcosa nello sfondo prima intanto una nuvoletta questi cosi qua che mi vogliono schiacciare ma oltre quello sicuramente abbiamo qualche altra cosa interessante come per esempio un altro fiorellino vorrei trovare in effetti altre cose e per altre cose intendo i gomitoli per vedere quanti ce ne mancano perché ce ne mancano due dovrei essere oh no cambia subito ok dovrei essere nel punto giusto e invece no in realtà perché ho visto il coso dei gomitoli e voglio dei gomitoli extra un'altra cosa che forse non vi ho detto forse ho accennato forse l'ho mostrata ma non l'ho detto all'altra voce se colpite questo blocco con dei gomitoli vi darà più gomitoli più in fretta intendo in questo modo visto? tanti è un modo buono se state provando a speedrunnare il gioco o se volete non perdere tempo però rilassiamoci ok è un Yoshi è un gioco Yoshi non è un livello S ed è Yoshi's Woolly World quindi più rilassante di questo gioco non c'è nient'altro vero? forse Crafted World è rilassante quanto questo gioco quale preferite voi in effetti? cioè so già che molti di voi avranno probabilmente giocato solamente a Crafted World perché non tutti avevano una Nintendo Wii U però magari sì magari c'è qualcuno che apprezza di più Yoshi's Woolly World l'ho già detto Woolly World è un grandissimo gioco di Yoshi ha avuto la tra virgolette sfortuna di essere uscito per Wii U ed è per questo che l'hanno rifatto per 3DS e gomitolo ed è il quarto perfetto vieni qua Topolino non darmi fastidio quindi spero sinceramente l'ho già detto più volte negli scorsi episodi spero sinceramente che un remake o port lo facciano perché questo gioco merita inoltre vorrei anche ricordarvi appunto che la versione 3DS ha tecnicamente qualche aggiunta di livelli intendo extra che sfortunatamente io qua abbiamo un fiore o è l'ultimo gomitolo perfetto che noi non vedremo in questo let's play ed è un gran peccato l'ho già detto stessa identica cosa di quello che è successo per Donkey Kong Country Returns che adesso che uscirà per Nintendo Switch mi chiedo se i livelli del mondo speciale di quel gioco saranno tutti quanti i livelli che c'erano per 3DS o solo uno credo a questo punto abbiano rifatto anche i livelli 3DS per Switch avrebbe senso qua non abbiamo niente quindi mi sa che possiamo uscire per di qua per poi andare qua abbiamo tutto tranne che giusto un paio di cose e l'ultimo fiore ok ecco perché ecco perché e mi sono salvato non sono neanche dovuto tornare indietro a fare il giro qua non c'è niente no e si va quindi su altri topolini sotto sfratti parlando di topolino quando è che esce Epic Mickey perché ci stavo pensando oh mamma mia fermi no volevo in realtà prendere quelle perline e anche il fiore come ho fatto a mancare il fiore magari se sto all'ultimo secondo non devo prendere danno te ne prego gioco ok tu sei una perlina cioè tu sei un timbro mi serve un vieni qua ok su ok perfetto abbiamo finito tutto quanto gioco bonus risultati scenario grotta fronte retro tutto in maniera molto sintetica tutto ah hai raccolto 220 toppe timbro ecco dei nuovi timbri per te prima o poi ve li mostrerò non oggi però nuovo Yoshi cosa saresti Yoshi chic perché chic che senso ha con il livello che abbiamo appena fatto oh quello è un cateniaccio so che il livello è questo è il livello 2-3 quindi basta nella prossima parte di Yoshi's Woolly World andremo a fare il livello 2-3 see you next time baby andremo a fare il livello 2-3 andremo a fare il livello 3-3 e e e e Grazie a tutti.